Benvenuti su MyFootballJersey, io sono Stefano e oggi vi presento la quarta maglia della Roma per la stagione 21 e 22 nella versione fan o stadium, quella cioè un po' più economica e dedicata ai tifosi Veramente accattivante il quarto kit della Roma per la stagione 21 e 22 Il nuovo design rivisita l'iconico stemma utilizzato sulle maglie giallorosse tra il 1997 e il 2013 durante il quale sono stato vinti lo scudetto, due coppi taglia e due supercoppi italiane Un twist accattivante sui famosi colori della S Roma Il kit viene presentato in blu navi e include il lupetto tono su tono accompagnato da delicate strisce orizzontali in giallo e rosso La maglia girocollo presenta anche dei polsini con dettagli nastrati in giallo Questa maglia in poliestere è dotata della tecnologia New Balance Dry integrata che allontana l'umidità per aiutarti a mantenere la pelle fresca anche quando la partita si riscalda La Roma non è la mia squadra del cuore ma devo dire che questa maglia è veramente strepitosa Nella mia classifica prende 5 stag Fatta peraltro molto ma molto bene Vi ricordo che in descrizione trovate i riferimenti per poterla acquistare a un prezzo ridicolo Ora se la maglia vi è piaciuta vi prego di farmelo sapere mettendo un like e vi prego di iscrivervi al canale se volete altre recensioni e suggeritemi le maglie che vorreste vedere Per oggi è tutto alla prossima ciao Io sono alto 1 metro e 75 e peso 70 kg Quella che vedete è una taglia medium della versione fan o stadium quella un po' meno aderente dedicata ai tifosi Grazie a tutti Grazie a tutti